Buongiorno un'altra volta ragazzi, mi chiamo Michele Pansini, sarò il vostro professore di chimica applicata. Prima di cominciare a illustrare i contenuti del corso, la ragione di questo corso perché è importante la chimica applicata nell'ambito di ingegneria industriale sia quelli là che dopo seguiranno i punti tipo elettrico, sia quelli là che dopo seguiranno i punti tipo elettrico. Dato che questa non so se è la vostra prima lezione, la vostra seconda lezione, vorrei semplicemente cominciare con augurarvi un sincero e affettuoso benvenuto all'università. Vi diciamo così giusto qualche cosetta, qualche consiglio che casomai è superfluo perché le sapete benissimo certe cose però dirle, ripeterle, simbolizzarle, perderò qualche minuto ma avrò la coscienza apposto che vi avrò detto alcune cose che credendo sia molto importante. Dunque adesso avete finito diciamo così il ciclo della scuola, cominciate il ciclo dell'università. Il ciclo dell'università è ben più insidioso del ciclo della scuola, il fatto praticamente che a scuola siete pochi, siete 20, 25, 30 persone, avete dei professori, ci sono le interrogazioni, siete tenuti continuamente sotto pressione. È diciamo così un vantaggio. Adesso praticamente voi siete lasciati, abbandonati a voi stessi. Il mio consiglio qual è? È quello là praticamente di seguire i corsi. I corsi sono importanti, soprattutto diciamo così le discipline di tipo scientifico con quelli di ingegneria. Il corso è estremamente importante. Soprattutto poi queste lauree, diciamo così, questi corsi di laurea, la laurea di primo livello di tre anni, la laurea di secondo livello due anni, poiché praticamente i corsi sono estremamente compatti. Diciamo che il professore quando fa lezione fa tutto uno sforzo per cercare di rendere la materia il più semplice, il più digeribile possibile, in maniera che possa essere assimilata nella maniera più rapida possibile. Diciamo che il corso che io cercherò di fare è come una sorta di omogeneizzato. L'omogeneizzato che si fa? Si dà al neonato. Al neonato chiaramente uno non è che ci dà la zuppa di soffritto che chiaramente ha difficoltà poi ad andarla a digerire. Gli si dà un cibo che uno lo prende e col piccolo stomaco che ha, col piccolo intestino che ha, lo assorbe rapidamente senza crearne grossi problemi. Diciamo che io cercherò di rendere una materia che non è semplice, è più semplice possibile. Per cui diciamo il corso è utile, serve seguire. Quindi vi raccomando di seguirlo. Vi raccomando di seguirlo poi nella sua interezza, diciamo così. Cioè quelle cose là, dici boh, seguo una lezione, boh, vabbè oggi tengo la partita di calcio, tengo la cosa più interessante da fare, ma me ne vado un po', no. Diciamo così, se si cominciano a sperdere due, tre lezioni, diciamo si perde la continuità del corso e poi le difficoltà a seguire sono veramente molto, molto grosse. alla fine che cosa succede? Succede praticamente che venite qui, scaldate il bambino, sentite una voce in lontananza che vi dà pure un pochettino fastidio, però non concludete assolutamente niente, però in quel caso è meglio che non lo sentite. Quindi diciamo così, si può perdere chiaramente qualche lezione, ma nel caso vi prendete subito gli appunti dai compagni, fortunatamente ci sono pure le riprese, quindi nel caso ve la potete vedere a casa la lezione, quindi diciamo così, rimettete subito al basso. E un'altra cosa soprattutto, quando praticamente facciamo una lezione, il giorno dopo, appena avete la possibilità, andate diciamo così a riguardare gli appunti, andate un pochettino a ricercare quei contenuti sui testi che vi sono stati consigliati e cercate di andare a puntualizzare la vostra mente. Questo perché? Perché ammettiamo, diciamo così, nella migliore delle volte che io faccio una splendida lezione, chiarissima, bellissima, eccezionale, voi seguite, capite tutto, non c'è nemmeno un punto oscuro, allora diciamo, beh, io ho capito tutto, è inutile che vado a casa e mi metto a studiare un'altra volta, tanto io ho capito tutto. Anche se vi sembra tutto chiaro, anche se è tutto perfetto, dovete comunque andarvela a riguardare, perché? Per fissarlo un pochino nella vostra mente, perché sennò dopo due, tre, quattro lezioni che cosa succede? Succede che se non avete fatto questo lavoro di fissare un puntino di stile contenuti nella vostra mente, poi dopo qualche giorno, dopo diciamo due, tre, quattro lezioni, quello che sarà stato detto nelle cose precedenti, nelle lezioni precedenti, vi sfuggirà. Allora io chiaramente, quando faccio un messimo, faccio riferimento a quello che ho detto nelle lezioni precedenti, ma faccio riferimento, non è che richiamando un contenuto delle lezioni precedenti, vi ripeto, tutta la lezione precedente in quel momento, se no, invece di nove crediti, ci vogliono 99 crediti per fare un corso, esatto. Allora, se no, se no, se voi non avrete fatto almeno un po' quel lavoro io, diciamo, quel lavoro di fissare il contenuto della vostra mente, allora, diciamo, le informazioni che io vi darò nel corso della lezione, vi lasceranno così, ma dice questo signore che sta dicendo queste cose, a me sembra una persona per bene, sicuramente ci dirà delle cose vere, però mi devo fidare di lui, perché non avrete la possibilità di comprovarlo a voi stessi, vi sto dicendo delle cose congure. Quindi, quello che vi prego, seguite tutte le lezioni, seguite bene anche tutte le esercitazioni, diciamo, le esercitazioni almeno fino a novembre ve le farò pure io, poi a novembre verrà, diciamo così, un ingegnere bravissimo che mi aiuta un pochettino a fare qualche lezione qui, qualche lezione di esercitazione la farà anche lui, però diciamo, fino a novembre gli esercizi ve li farò proprio vedere io. Ripeto, l'esame poi come si articolerà? L'esame si articolerà con una prova scritta in cui ci sarà anche un certo numero di esercizi e diciamo così, in questa prova scritta mi dovrete dare, diciamo così, la sensazione che avete capito abbastanza quello che è stato fatto nel corso del corso, soprattutto la prova scritta è importante perché? La prova scritta è la prova orale nell'ambito dell'esame, almeno per quanto vi riguarda, perché è importante quello che siete capaci di fare voi soli di fronte a un foglio di carta e poi è importante anche, diciamo così, confrontarsi con il professore che vi farà delle domande, voi direte delle cose, ci sarà, diciamo così, un piccolo dibattito con il professore e da questo si capirà l'acqua dell'esame. Diciamo che, però, per fare la prova orale bisogna avere superato la prova scritta. Diciamo, la prova scritta è sicuramente commisurata agli esercizi che verranno fatti nel corso delle lezioni. Diciamo, chiaramente non sono proprio esattamente gli stessi esercizi perché chiaramente non possono essere gli stessi, sono solo degli esercizi simili. Io penso una cosa che poche persone sono oneste come me in sede d'esame come lo sono io. Io in sede d'esame, allo scritto, chiedo gli esercizi che ho fatto a lezioni. Chiaramente saranno un po' diversi, saranno dei sistemi diversi, caso mai se proprio ho un attacco di perfidia quel giorno io oppure Antonello che mi aiuterà a fare queste lezioni, caso mai in un solo esercizio vengono, diciamo così, mischiate le tematiche di due argomenti. Quindi lo studente dovrà, diciamo così, fare ricorso per esempio alla stechiometria e a quello che ha imparato nel capitolo della stechiometria e a quello che non farò nulla che, diciamo così, al di fuori di quello che ha imparato. Anche in sede d'esame, in sede d'esame orale, quello che è stato fatto, quello verrà chiesto. Molto spesso, un po' di meno, è normale. Tenete presente un'altra piccola informazione che io, diciamo così, quando ero al posto vostro, i professori non ragionavano assolutamente come ragionevo io. Quello che veniva fatto a lezione, quello era scontato, era stato fatto a lezione, come faceva a non saperlo, visto che era stato fatto a lezione. All'esame si chiedevano le cose che non erano stati fatti a lezione, perché lo studente doveva avere maturato una conoscenza tale di quella materia che doveva arrivare a risolvere a quei quesiti, a quelle domande, a quei problemi che non erano stati fatti a lezione. Perché quelli che erano stati fatti a lezione era scontato, quello lo sapevo, erano stati fatti, erano stati spiegati. Quindi diciamo che fortunatamente la logica della scuola, la logica dell'università è cambiata un po' quindi vi ripeto, poche persone sono onesti come me in sedere. Le raccomandazioni che io vi ho dato, ripeto, non sono delle raccomandazioni serie, non sono delle parole dette così, buttate, giusto per dire qualche parola. La verità, lo credo veramente. Cioè se in poche parole dopo seguite una lezione sì e una lezione no ve lo dico io, non venite più passati è proprio inutile, cioè scaldate il banco e perdete tempo oppure praticamente vi ripeto se seguite il corso e poi una lezione vi guardate un poco poi tre lezioni non guardate niente o guardate un altro poco poi non fate mai un esercizio di quelli là che sono stati fatti a lezione vi ripeto, avrete grossa difficoltà e i benefici del corso saranno veramente molto aumentati allora passiamo un pochettino diciamo così a illustrare i contenuti del corso la lezione di questo corso è chimica applicata e sinceramente la lezione chimica applicata mi sembra abbastanza adeguata perché? perché praticamente è un corso diciamo cominceremo con un corso di chimica di base è un corso di chimica di base estremamente compresso perché ripeto sono nove crediti nove crediti che cosa vuol dire? vuol dire praticamente qualche cosa come una settantina di ore di lezioni frontali così si utilizzano questi aggettivi la lezione è essere frontale, può essere laterale, o posteriore non lo scuola, è una settantina di ore di lezioni frontali e quindi il corso diciamo così da parte di chimica sarà diciamo ridotta ai contenuti principali quindi che cosa penserò di fare in questo corso di chimica? questo corso di chimica cominceremo stesso oggi diciamo così a parlare di che cos'è la materia delle capacità di trasformazione della materia e alla base delle capacità di trasformazione della materia ci sono le tre leggi fondamentali della chimica che le vedremo penso nel corso di questa lezione tra oggi e domani vedremo tutte e quante queste cose poi cominceremo un pochettino a diciamo a considerare dei concetti come quello di mole, di molecola, di peso atomico, di massa atomica, di numero di avvocato e questo ripeto credo che lo dovremmo fare nell'amplice di questa settimana successivamente una volta dimostrate le leggi fondamentali della chimica passeremo diciamo così entreremo dentro l'atomo l'atomo diciamo così dovrebbe essere la parte più piccola della materia la stessa sua etimologia vorrebbe dire indivisibile poi vedremo quando studieremo la struttura dell'atomo che è tutt'altro che indivisibile l'atomo insomma entreremo dentro l'atomo e parleremo un pochettino di struttura dell'atomo adesso queste sono quelle tre ore che dedicheremo alla struttura dell'atomo sono concettualmente le lezioni più complicate che faremo perché? perché praticamente l'atomo è un universo ancora in gran parte conosciuto cioè di come sia fatto l'atomo quale sia veramente l'essenzo, la natura, la materia è qualcosa che è ancora in gran parte in conto in effetti non so se voi ogni tanto seguite un pochettino i telegiornali leggete i giornali leggete che hanno scoperto una nuova particella subatomica e che ha cambiato diciamo così le vedute su tutta una serie di argomenti proprio quello che volevo dire è una materia ancora diciamo così che viene studiata e che ancora riserva scoperte diciamo così sorprese diciamo inimmaginabili adesso chiaramente è anche una materia lontana sia da voi che un giorno sarete degli ingegneri meccanici elettrici sia da me che diciamo così sono un docente di materie di tipo chimico chiaramente la fisica della materia, la fisica dell'atomo è qualche cosa di molto lontana cioè nonostante ecco un pochettino di conoscenza di come sia fatto l'atomo la superficiale conoscenza dell'atomo è necessaria perché se no tantissime cose tantissimi contenuti di tipo chimico sono assolutamente impossibili diciamo che su questo argomento ho semplificato moltissimo la materia perché ripeto la materia è estremamente complicata io adesso vi indicherò qualche libro di testo se voi andate a vedere su questi ottimi libri di testo che vi consiglio la struttura dell'atomo è un capitolo decisamente molto complicato invece penso che come la spiego io è diciamo così un capitolo che sicuramente ha qualche difficoltà di tipo concettuale però non è particolarmente complicato quindi proprio veramente sulla struttura dell'atomo quello che vi consiglio caldamente studiatevi gli appunti delle mie lezioni e tralasciate un pochettino i libri di testo perché i libri di testo che io vi consiglio sono degli ottimi trattati di chimica piccola parentesi sui libri di testo i libri di testo possono essere o dei trattati o dei manualetti il trattato praticamente vi riporta la chimica nella sua interezza e chiaramente è molto ridondante per quelli che sono i contenuti del corso il manualetto invece vi dice due tre quattro cose spesso il manualetto è un'operazione più che altro di tipo commerciale c'è se hanno un professore che dici ma non faccio due che sono non posso fare due che sono beh ma scrivono un libro di chimica lo faccio diciamo così adottare a tutti quanti i miei studenti e dai professori che tengono studenti di chimica che sono miei amici io mi faccio quello che faccio diciamo che però non si rende un buon servizio agli studenti perché sono incompleti sono a volte anche imprecisi per cui io preferisco diciamo così rivolgermi ai trattati il trattato però ha la difficoltà che lo studente deve capire cosa deve fare e cosa non deve fare chiaramente se si è seguito il corso sa benissimo cosa deve fare e cosa non deve fare comunque diciamo così io sui siti della facoltà ho messo tutti quanti i programmi quindi anche chi non si segue il corso c'è un programma dettagliato parola per parola scritto interlinea 1 carattere 10 è una pagina completa quindi è dettagliatissimo questo programma quindi lo possono trovare lassù per sapranno bene cosa è stato fatto e cosa non è stato fatto anche chi non ha seguito il corso c'è un programma quindi vi dicevo struttura dell'atomo poi dopo la struttura dell'atomo passeremo a parlare delle proprietà dei vari elementi della tavola periodica e quindi parleremo della tavola periodica poi parleremo di come gli atomi si legano fra di loro quindi parleremo del legame chimico dei vari tipi di legame chimico e successivamente passeremo al capitolo delle reazioni chimiche e della stereometria cioè in poche parole quando si verifica una reazione chimica si rompono dei legami chimici fra alcuni atomi si formano dei legami chimici fra altre particelle e vedremo un pochettino quali sono i motivi che causano l'avvenire di una reazione chimica e verificarsi di una reazione chimica e vedremo un pochino tutte quante quelle leggi che sovraintendono al verificarsi delle reazioni chimiche questo capitolo si chiama stechiometria dopo la stechiometria passeremo a studiare le proprietà degli stati di aggregazione della materia quindi parleremo dei gas, delle leggi dei gas, poi parleremo dei solidi, descriveremo i solidi poi passeremo allo stato liquido, dallo stato liquido poi passeremo alle soluzioni le soluzioni sono praticamente quei sistemi in cui il componente non è uno solo, sono più di uno diciamo che le soluzioni sono, ci esistono soluzioni gassose, soluzioni liquide, soluzioni solide quelle che studieremo in particolare sono le soluzioni liquide, perché in effetti però comincio già a anticipare da adesso, le soluzioni gassose si comportano come i gas composti da un solo componente quindi le leggi che valgono per le soluzioni gassose sono le stesse leggi che valgono per i gas poi ci sono le soluzioni solide che sono importantissime, che sono interessantissime ma là si entra in un altro campo, si entra nel campo dei materiali e questo è un corso di chimica applicata diciamo che si può fare qualche accenno alle proprietà dei materiali ma non è che se ne potrà parlare poi dopo le proprietà delle soluzioni passeremo a parlare della cinetica chimica la cinetica chimica è quel capitolo che tratta della velocità delle reazioni chimiche dopo la cinetica chimica passeremo all'equilibrio chimico l'equilibrio chimico che cosa significa? Significa praticamente che alcune reazioni non vanno a completamento apparentemente si fermano, nella realtà sono andate in equilibrio e gli equilibri chimici, così come gli equilibri fisici, sottostanno tutta una serie di leggi che chiaramente non riconosce in particolare poi andremo a vedere gli equilibri omogenei cioè in un sistema costituito da un'unica fase gli equilibri ad esempio in fase gassosa poi parleremo degli equilibri in fase liquida cioè in pratica andremo a parlare degli acidi e delle basi forti e deboli e poi parleremo anche un po' di gli equilibri e gli equilibri per finire poi il corso di chimica ci sta l'elettrodurio cioè quel capitolo della chimica nel quale praticamente si studiano quelle reazioni chimiche che possono essere sfruttate per creare una corrente elettrica che può servire per qualche determinato scopo alias, le chile, oppure delle reazioni chimiche nelle quali si può utilizzare un generatore di corrente elettrica per far avvenire una reazione che non avrebbe oltre spontanea alias un elettrono poi, diciamo così, nel corso di questo corso io vi parlerò anche delle implicazioni energetiche che hanno le reazioni chimiche diciamo che questo è un capitolo che dovrebbe essere studiato a sé che si chiama termochimica poiché io, la termochimica, non c'ho il tempo di farlo perché ripeto, ho una settantina d'ore di lezioni devo fare la chimica, devo fare la chimica applicata la termochimica non c'ho il tempo di farlo però che cosa farò? quando parlerò delle reazioni chimiche contemporaneamente parlerò delle implicazioni energetiche delle reazioni chimiche ed è come se le reazioni chimiche, la stechiometria, l'equilibrio chimico e la termochimica venissero fatte sempre a sé a questo punto la parte di chimica è finita la parte, diciamo così, vera e propria di chimica applicata comprende, diciamo così, lo studio di due argomenti che sono sicuramente di grande interesse sia per gli ingegneri meccanici sia per gli ingegneri elettrici, diciamo comunque di tutti gli ingegneri di tipo industriale questi due argomenti sono le acque naturali dunque le acque naturali sono dei sistemi molto complessi cioè l'acqua che esce dal rubinetto che noi ci beviamo, noi ci facciamo la doccia sembra un qualche cosa di tanto semplice e invece è un sistema decisamente abbastanza complesso quindi studieremo come sono fatte le acque naturali classificheremo le acque naturali e vedremo poi queste acque naturali a quali trattamenti devono essere sottoposte per poter essere utilizzate come acque industriali e anche un po' come acque di tipo civile ad uso civile e ripeto, è un argomento diciamo abbastanza vasto abbastanza importante che tratteremo con una brutta poi ancora per terminare il corso un altro argomento tipico di chimica applicata riguardano lo studio dei combustibili e della reazione di combustibile dunque la reazione di combustione è un particolare tipo di reazione chimica diciamo già quando noi parleremo della stechiometria io vi farò la classificazione delle reazioni chimiche vi mostrerò diciamo così in particolare la reazione di combustione la reazione di combustione poi ha bisogno di essere studiata in particolare perché ha delle caratteristiche che nessun altro tipo di reazione chimica e poi anche per un altro motivo molto 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 la reazione di combustione è importantissima perché? perché praticamente diciamo così in tutto il mondo e in Italia in particolare gran parte della energia che viene prodotta viene prodotta bruciando di combustione diciamo che qualche anno fa io diciamo mi tengo abbastanza al corrente ho la curiosità di leggere libri di leggere comunicazioni di leggere dati qualche anno fa ma non vi so dire quanti anni in particolare però diciamo sono delle statistiche che sono ancora abbastanza varie in Italia mi pare che circa il 75% dell'energia prodotta era prodotta bruciando di combustione chiaro? in effetti l'energia che viene prodotta viene prodotta bruciando combustione quindi è energia di tipo termoelettrico oppure viene prodotta diciamo così sfruttando la caduta di acqua dall'auto che fa girare le pale di una turbina la turbina praticamente fa girare la dinamo l'alternatore viene prodotta l'energia elettrica questa è energia di tipo idroelettrica oppure diciamo così viene prodotta sfruttando l'energia che si libera dalla decomposizione degli atomi dei nuclei degli atomi che sono istabili e quindi questa è energia praticamente di tipo nucleare poi ci sono un pochettino di energie alternative l'energia eolica l'energia diciamo così solare l'energia quella là che si può prendere dai movimenti delle acque del mare ma queste sono decisamente piccole cose cioè praticamente queste sono un aiuto a il grosso dell'energia è energia termoelettrica energia idroelettrica e nei paesi dove il nucleare è stato schifato energia nucleare quindi diciamo così già questo fatto qui già questo dato 75% adesso se non è il 75% sarà sicuramente più del 70% quindi se vogliamo essere precisi una liquida dell'energia prodotta in Italia compresa tra il 70% e il 75% è energia di tipo termoelettrica quindi energia cioè prodotta bruciando combusti quindi è chiaro che io continuo che conosciate le particolari caratteristiche di questa reazione e per conoscere le particolari caratteristiche di questa reazione dovremmo avere studiato bene due cambiature quello lì dell'equilibrio chimico cioè della termodinamica chimica e quello lì della cinetica cioè se non si hanno studiato questi due capitoli della chimica opportunamente le caratteristiche della reazione di combustione risulteranno diciamo così assolutamente arcane assolutamente combustibili poi si passerà a studiare diciamo così una serie di parametri tecnologici che servono diciamo a caratterizzare i vari combustibili che siamo a disposizione e poi si passerà diciamo così a vedere i vari tipi di combustibili i combustibili vengono classificati in funzione del loro stato di aggregazione quindi i combustibili solidi i combustibili liquidi i combustibili gassi vedremo tutti quanti questi tipi di combustibili quindi parleremo del petrolio delle benzine del cherosene dell'olio combustibile della nafta del gas naturale del carbone poi diciamo così se avrò il tempo vi parlerò di un poco di combustibili che ultimamente sono usciti lo shale oil e lo shale gas che sono praticamente dei combustibili derivanti da diciamo degli oli che si trovano nelle rocce che non possono ancora essere considerati petrolio se avrò il tempo vi parlerò degli idrati di metano che sono delle cose simpatiche delle cose interessanti che adesso sono ancora soltanto una curiosità ma che un domani potrebbero diventare una enorme fonte di energia diciamo così e quindi vi parlerò un pochettino e benissimo e poi il corso allora prima di cominciare diciamo così a parlarvi un pochettino della materia e delle capacità di trasformazione della materia vi voglio scrivere alla lavagna prima che me lo chieda qualcuno diciamo così i testi e gli autori che io consiglio per questo corso il testo diciamo così io preferisco però diciamo è una preferenza di tipo personale perché lo trovo molto completo e anche abbastanza secco quindi c'è questo chimica principi e proprietà quindi lo so che è sono gli autori sono Sienco e Claim sono due americani e l'editore è Casa Edificia Androsiana Andano sono altri due ottimi libri di testo questi qui quindi se li avete potete considerare anche questi Chimica o Generale di Paolo Forzadini ho fatto un errore Casa Edificia Androsiana è questo qui questo qui invece è il Cine Vitore Padova oppure un altro testo molto molto buono è Chimica in Generale e in Organica di Mahan e questo praticamente anche questo è Casa Edificia Androsiana quindi anche questo qui lo affitta poi un testo di esercizi dove ci sono molti esercizi già svolti e dove ci sono praticamente anche degli esercizi non svolti che potete fare si chiama Chimica Problemi Numerici gli autori sono Puri Caterla Marotta casa Edificia di Buon Napoli poi per la parte di Chimica Applicata vedo la parte di Chimica Applicata sono due capitoli quindi in questo testo qui bisogna andare a guardare solo due capitoli comunque tutti quanti questi testi stanno tutti nella Biblioteca Studenti quindi insomma diciamo se volete andare a vederli là sopra senza comprarli sono sicuramente consultabili per la Biblioteca Studenti allora per la Chimica Applicata è lezioni di Chimica Applicata allora l'autore è Cesare Brisi l'autore è Lebrotto di bella Torino quindi vi ripeto diciamo quello che io consiglio più di tutti quanti è questo qui però diciamo che se seguite il corso vedete dei buoni appunti questi testi a limite li potete andare diciamo così solo per andare a confrontare quello che io ho fatto a lezione il testo di esercitazione diciamo così è utile andarlo a vedere ogni tanto gli esercizi già svolti e anche per prendere gli esercizi da svolgere per diciamo così avvenarsi per lo studio e poi i due capitoli di Chimica Applicata che verranno studiati vi trovate con le azioni di Chimica Applicata il libro il testo scritto dal professore Brisi è un testo semplicissimo chiarissimo diciamo così e diciamo io dirò qualche cosa in più rispetto a quello che sta riportato su questo testo non ci dovrebbe essere questo ci sono problemi ragazzi tutto quanto sono andato dicendo fino adesso posso continuare? io ho detto praticamente che la Chimica che cosa si occupa? si occupa delle capacità di trasformazione della materia io adesso c'è la fine presa qua io generalmente capito molto dovevo stare più fermo se no il povero Antonio mi deve andare seguendo perché io generalmente quando faccio lezioni mi piace passeggiare tra gli studenti farmi giri e poi ritornare invece dovrò stare qua non mi posso muovere se no complico il lavoro del nostro Antonio che se mi faccio fare una fatica per tutti quindi mi devo stare fermo non mi posso muovere va bene allora abbiamo detto si occupa della materia e della capacità di trasformazione della materia ma che cosa è la materia? dunque la materia praticamente è tutto qua è percepito dai nostri sensi quindi che vi posso dire è materia l'acqua che beviamo è materia l'aria che respiriamo è materia questa specie di cosa è? legname o materia plastica di cui è frutto no è un legname scadente praticamente è un legname scadente ricoperto di un foglio di plastica ecco questa specie di cattedra sulla quale io svolgo tutto questo è materia la materia da che cosa è caratterizzata? la materia è caratterizzata dalla propria massa la massa è una grandezza che si indica con la lettera m piccola bene adesso che cos'è la massa? beh se vogliamo andare a definire la massa diciamo così in una maniera asettica incontrovertibile potremmo dire praticamente che la massa è la resistenza opposta da un corpo la massa di un corpo è la resistenza opposta da un corpo a variare il proprio stato di quiete o di moto rettibile diciamo che con questa asettica potremmo alzare la voce? se alzo la voce il problema è che poi non arrivo alla fine della lezione quindi forse mi dovrebbero provare un microfono allora dicevo la massa di un corpo è praticamente la resistenza opposta dal corpo a la variazione del proprio stato di quiete o di moto rettilineo cioè in poche parole se noi diciamo così abbiamo un corpo ecco immaginate che vi posso dire un pallone un pallone se è un pallone di gomma ci diamo una piccola spinta il pallone di gomma si comincia subito a muovere che significa questo? significa che la massa di quel pallone di gomma è bassa perché la resistenza opposta alla variazione del suo stato di quiete è stata molto lieve se invece di prendere un pallone di gomma io prendo un pallone di marmo o un pallone d'acciaio e cerco di muoverlo la spinta che io gli devo dare è una spinta molto molto più forte perché? perché praticamente la massa del pallone di marmo o la massa del pallone d'acciaio è molto più grande della massa del pallone di gomma quindi la sua capacità di opporsi alla variazione del suo stato di quiete è molto più grande è chiaro? diciamo che la massa è una misura dell'inerzia che ha un determinato corpo adesso la massa non deve essere confusa col peso il peso che cos'è? il peso praticamente è la forza con cui l'incorpo viene attratto al centro della terra quindi praticamente massa e peso sono due grandezze molto molto diverse tra di loro la massa prima cosa è una grandezza scalare cioè una grandezza che è caratterizzata soltanto da un numero cioè questo pezzo di gesto quanto pesa? 1,52 grammi hai detto tutto quello che dovevi dire anzi qual è la sua massa? 1,52 grammi invece se io dico praticamente il peso di questo gesto è 1,52 grammi forza o non lo so in newton quanto sarà il fattore di conversione non lo ricordo io devo tenere presente che questa è una grandezza il peso vettoriale cioè in poca parola la grandezza vettoriale è caratterizzata da il suo modulo cioè il valore del vettore della lunghezza del vettore da un verso e da una direzione è chiaro? adesso praticamente voglio diciamo così rimarcare bene qual è la differenza fra massa e peso anche se in chimica non ha nessun richiedo diciamo massa e peso sono completamente diversi perché ad esempio se noi andiamo nello spazio molto lontano dalla terra fuori del campo gravitazionale della terra un corpo un grave perde il suo peso ma conserva la sua massa cosa voglio dire? voglio dire che se noi pigliamo il solito pallone di marmo il solito pallone d'acciaio di cui vi ho parlato prima quello che alleggerà nello spazio perché praticamente essendo al di fuori del campo di attrazione gravitazionale esercitato dalla terra non ci sarà più nessuna forza che lo attrae verso il centro della terra quindi che alleggerà nello spazio quindi il pallone di marmo pesantissimo avrà perso il suo peso nello spazio ma non avrà perso la sua massa perché? perché se noi proviamo a dare un calcio al pallone di marmo ci facciamo male alla stessa maniera sia che stiamo sulla terra sia che stiamo in un astronave perché? perché il pallone di marmo non ha perso la sua massa cioè non ha perso la sua capacità di opporsi alla variazione del suo stato di piede o di moto rettile chiaro? adesso una volta che vi ho distinto molto chiaramente cos'è la massa e cos'è il peso vi dico che in effetti in chimica diciamo così parlare di differenza tra massa e peso non ha grande significato chiaro? cioè se vogliamo essere molto precisi dovremmo parlare sempre di masse non dovremmo parlare di peso ma se ci scappa una volta dire questo gesso pesa oppure questo cloruro di sodio che io sciolgo nell'acqua pesa due grammi e mezzo invece di dire ammassa due grammi e mezzo non succede assolutamente niente perché in effetti peso e massa in chimica sono utilizzati praticamente come sinonimi mi raccomando però non fate una cosa del genere all'esame di fisica all'esame di chi in fisica se confondete massa e peso l'esame finisce lì e siete blocciati diretto a venire quindi diciamo che in chimica massa e peso possono essere considerati due sinonimi perché per i ragionamenti che dobbiamo fare noi noi dobbiamo andare a definire la quantità di materia con cui noi abbiamo a che fare adesso o la definiamo con la sua massa o la definiamo con la forza con cui questo corpo è attratto al centro della terra che poi è proporzionale alla sua massa è assolutamente la stessa cosa se vogliamo comunque essere più precisi anche in chimica è meglio parlare di massa e non di peso bene adesso una porzione di materia che è definita da superfici nette in cui si può andare a rilevare omogeneità di composizione chimica quindi sempre la stessa composizione chimica e omogeneità anche di proprietà fisiche quindi che ne so è sempre la stessa durezza è sempre la stessa densità è sempre la stessa conducibilità elettrica o la stessa resistività elettrica viene chiamata fase adesso praticamente un sistema che è costituito da una sola fase è chiamato un sistema omogeneo un sistema che è costituito da più fasi viene chiamato un sistema eterogeneo vi faccio qualche esempio di fase perché diciamo così nel corso di questo corso capiterà che io parlerò di fase ed è opportuno che ricordiate che cos'è una fase prendiamo praticamente ecco ecco poi tengo qua un esempio proprio a portata di mano il sistema costituito da questa bottiglia che tiene praticamente un pochettino d'acqua in fondo a questa bottiglia secondo voi quante fasi sono presenti in questo sistema detto bottiglia sono presenti due fasi una fase acqua costituita praticamente dall'acqua che presenta in questa bottiglia e poi da una fase aereiforme che è costituita da aria più i vapori che vengono liberati dall'acqua va bene se io praticamente avessi questa bottiglia piena fino all'orlo di acqua il sistema bottiglia sarebbe un sistema monofasico costituito solo della fase acqua adesso se io per esempio prendo che ne so del sale da cucina cioè del cloruro di sodio cioè il principale componente del sale da cucina è il cloruro di sodio se io lo metto nell'acqua e agito il cloruro di sodio si scioglie nell'acqua il sistema resterà sempre costituito da una fase soluzione acquosa di cloruro di sodio e da una fase aerea cioè in poche parole il fatto che la composizione chimica della fase liquida è cambiata non cambia il fatto che il sistema che è la fase liquida resta sempre una sola fase se io però continuo ad aggiungere palette di cloruro di sodio fino a che il cloruro di sodio raggiunge la sua solubilità massima e non si scioglie più e resta diciamo così un corpo di fondo allora a quel punto là il sistema è diventato trifasico cioè ci sarà una fase solida cloruro di sodio in equilibrio con la soluzione acquosa satura di acqua e cloruro di sodio più la fase è aerea bene se io per esempio che ne so all'acqua aggiungo dell'alcol acqua e alcol sono perfettamente miscibili in tutte le proporzioni quindi si crea una soluzione acqua-alcol ma se io per esempio aggiungo dell'olio d'oliva all'acqua acqua e olio d'oliva sono praticamente miscibili quindi che cosa succede? succede praticamente che le particelle di cui è fatta l'acqua si schifano con le particelle di cui è fatta l'olio d'oliva e le particelle d'acqua vogliono stare con altre particelle d'acqua le particelle di olio d'oliva vogliono stare con altre particelle di olio d'oliva e si creano due fasi l'acqua è più pesante va verso il basso l'olio d'oliva è più leggero va verso l'alto e al di sopra ci sarà una fase aeriforme che è costituita da aria più i vapori di acqua più i vapori di olio d'oliva bene adesso diciamo così esistono tanti sistemi in natura che sono sistemi eterogenei vi faccio qualche esempio ad esempio un fango una sospensione di un solido e di un liquido è un sistema eterogeneo dove la fase disperdente è il liquido l'acqua la fase dispersa è il solido oppure che vi posso dire una nebbia una nebbia è un altro sistema eterogeneo perché da cosa è costituita la nebbia la nebbia è costituita da una fase disperdente l'aria in cui sono disperse goccioline piccolissime microscopiche invisibili a occhio nudo di acqua liquida quella è una nebbia un fumo che cos'è? un fumo è un altro sistema eterogeneo in cui c'è una fase disperdente aereiforme a base di aria e una fase dispersa che è solida cioè quando voi vedete praticamente il fumo le spirali di fumo che si liberano da una sigaretta quelle sono delle particelle solide leggerissime che si liberano praticamente dall'atmosfera e quello è un sistema eterogeneo oppure che vi posso dire se noi pigliamo acqua e olio mettiamo in un recipiente chiuso e li sbattiamo violentissimamente si formano delle goccioline piccole 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 di acqua e delle goccioline piccole 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 di olio quella che cos'è? è una emulsione in cui praticamente è un sistema costituito da due fasi liquide immiscibili fra le cose oppure una schiuma una schiuma che cos'è? è costituita da una fase disperdente liquida in cui è dispersa una fase aeriforme quella è una schiuma vedete la schiuma è l'inverso della nebbia nella nebbia la fase disperdente era l'aereiforme la fase dispersa era l'aereiforme oppure che vi posso dire se voi andate a vedere un granito un granito sono quelle belle pietre che vengono utilizzate anche come pietre ornamentali voi vedete proprio chiaramente dei granelli più chiari e dei granelli più scuri i granelli più chiari sono dei fenotespati cioè dei particolari silicoalluminati di qualche cosa i granelli più scuri invece sono a base di ossidi di ferro essenzialmente quello è praticamente un tipico sistema ideologico perché ci sono due fasi diciamo così solide che sono disperse diciamo l'una o l'altra adesso la materia da quello che ho detto fino adesso è anche evidente che si presenta in tre diversi stati di aggregazione di aggregazione di diversi stati di aggregazione la materia sono lo stato di aggregazione liquido lo stato di aggregazione solido lo stato di aggregazione scriviamo aerei form per me o qualcuno si starà chiedendo a me ma tu sta aerei form perché non abbiamo gas lo so che è più semplice perché praticamente l'aerei form comprende i gas e i vapori che sono due cose profondamente diverse e quando diciamo così saremo un pochino più avanti nel corso di questo corso vi spiegherò la differenza tra gas e vapori per cui volendo diciamo così essere preciso parlo di stato dell'aggregazione della materia perché ripeto con aerei form non voglio dire solamente i gas voglio dire anche i vapori chiaro adesso faccio una piccola premessa esistono anche altri stati di aggregazione della materia diciamo quelli là che si dilettano di seguire programmi di informazione diciamo così di tipo scientifico o che leggono riviste di tipo scientifico dicono ma io ho sentito che esiste il gas ionizzato il plasma è un altro stato di aggregazione della materia esistono anche degli altri oltre al plasma e oltre ai gas ionizzati che viene contenuto nelle bottiglie magnetiche ma come sono fatte bottiglie magnetiche oppure che ne so esistono i cristalli liquidi cioè qualche cosa che sono una via di mezzo fra i liquidi e i soliti i cristalli plastici un'altra cosa che sono una via di mezzo fra i liquidi e i soliti diciamo che in un corso elementare di chimica come questo qui di chimica e di chimica applicata io diciamo così vi parlerò soltanto degli stati di aggregazione tradizionali della materia non ho il tempo di parlarvi del plasma dei cristalli liquidi dei cristalli plastici sarebbero delle cose bellissime ma diciamo questi sono argomenti da corsi di chimica o di fisica superiori se lo pagano si fa adesso guardate qui la materia può diciamo così subire delle trasformazioni che sono delle trasformazioni diciamo abbastanza semplici non sono delle trasformazioni molto profonde sono delle trasformazioni potremmo dire superficiali che sono chiamate trasformazioni fisiche queste trasformazioni fisiche sono i passaggi di stato diciamo che ad esempio l'acqua liquida vedete se voi la portate al di sotto di 0 gradi centigradi diventa solida e viene chiamata ghiaccio ma se la andiamo a riscaldare al di sopra dei 100 gradi vaporizza completamente e diventa vapore d'acqua quindi diventa un aereo quindi diciamo così esistono questi tre stati di aggregazione della materia dunque vorrei diciamo così precisarvi quali sono le caratteristiche degli stati di aggregazione della materia dunque un solido è caratterizzato da forma e volume proprio un liquido è caratterizzato da volume proprio ma da forma del recipiente che lo contiene un aereo non ha né forma né volume proprio bensì ha sempre sia la forma sia il volume del recipiente che lo contiene bene dunque nel solido le particelle sono vicine e ordinate su questo ordinate ci metto un piccolo asterisco per dire che cosa quando parleremo dello stato solido vi dovrò diciamo così di dire qualche cosetta in più rispetto a quello che dico adesso chiaramente non è che posso dire tutte quante le cose insieme le devo presentare una volta quindi diciamolo con l'asterisco cioè nel senso ci dovrò ritornare sopra su questo argomento in un solido le particelle che lo compongono sono vicine e ordinate in un liquido invece le particelle sono vicine ma sono disordinate va bene in effetti quello che distingue un solido da un liquido non è neanche tanto nella percezione più comune non è neanche tanto il fatto che le particelle sono ordinate o sono disordinate perché in effetti voi se guardate l'acqua con i vostri occhi non è che siete capaci di vedere le particelle dell'acqua disordinate così come pure se vedete una lastra d'acciaio non siete capaci di vedere gli atomi di ferro che vanno a descrivere una cella elementare cubica a corpo centrato cubica a faccia centrale quello di cui voi vi accorgete è che il pezzo di ferro mantiene la sua forma l'acqua non mantiene la sua forma in effetti questa grossa differenza che esiste tra soliti e micrini è una grossa differenza relativa a una sua proprietà meccanica cosa voglio dire sarà un pochino più preciso tutti quanti i corpi sono soggetti alla propria forza peso è chiaro quindi sono soggetti a una forza adesso i solidi sono dei corpi tali che sono in grado di resistere alle sollecitazioni di taglio connesse al proprio stesso peso cosa voglio dire voglio dire che questa forza peso genera alcune sollecitazioni all'interno di un corpi il solido riesce a sopportare queste sollecitazioni e mantiene la proprietà cioè queste sollecitazioni taglianti cosa tenderebbero a fare tenderebbero a fare slittare in piani paralleli fra di loro gli elementi di volume che compungono questo solido nel solido le interazioni con le particelle che compongono i solidi sono talmente forti che queste sollecitazioni taglianti vengono pinte alla grande invece in un liquido questo non succede praticamente in un liquido le sollecitazioni taglianti connesse al peso stesso e al liquido sono tali che i vari strati di liquido slittano gli uni rispetto agli altri cioè se io per esempio quest'acqua che sta in questa bottiglia la versassi su questo tavolo cosa dovrebbe succedere? dovrebbe succedere praticamente che si dovrebbe stendere l'acqua su questo tavolo in un velo monomolecolare perché questa praticamente è la situazione a cui compete meno energia possibile al sistema poi il velo non è monomolecolare perché insorge un altro fenomeno quello della tensione superficiale che è molto complicato ma diciamo così non mi fate fare l'esperimento perché io quest'acqua proprio alla volta l'avendo d'altra parte diciamo così avete versato ogni tanto un bicchiere d'acqua per terra e si è fatta pozzangara d'acqua a terra quindi un episodio un esperimento che voi conoscete che non è un esperimento che ho bisogno di replicare praticamente si fa la pozzangara d'acqua per terra perché i vari stratelli di acqua slittano gli uni rispetto agli altri e si vanno praticamente a fornare un sacco nella bottiglia questo perché questo non succede perché praticamente quando tende a slittare verso l'esterno preme contro la parete della bottiglia la bottiglia reagisce con una forza uguale e contraria a quella della sollecitazione di taglio che tenderebbe a fare slottare queste particelle d'acqua e l'acqua mantiene la forza della bottiglia quindi in effetti a distinguere i soliti dai liquidi è semplicemente una proprietà meccana gli aereiformi invece che cosa c'hanno? C'hanno praticamente che le particelle sono lontane e disordinatissime quindi praticamente quando noi abbiamo un'aereiforme tipo l'aria tipo il metano tipo praticamente i vapori d'acqua quello andrà a occupare tutto il recipiente che ha a disposizione bene adesso abbiamo detto che praticamente la materia può cambiare facilmente stato e praticamente si può passare facilmente dallo stato solido dallo stato libero dallo stato dei riforme tramite delle diciamo così trasformazioni che vengono chiamati passaggi di stato adesso andiamo un pochettino a classificare tutti quanti questi passaggi di stato il passaggio di stato da solido a liquido si chiama fusione il passaggio di stato da solido da solido si chiama solidificazione il passaggio di stato da liquido a aeriforme si chiama evaporazione condensazione il passaggio di stato da aereiforme al liquido si chiama liquefazione o condensazione adesso adesso ragazzi liquefazione o condensazione sono due perfetti sinonimi cioè la stessa cosa potete utilizzare indifferentemente una parola o l'altra invece quando andiamo a parlare di passaggio da liquido aereiforme si può avere o l'evaporazione o l'ebollizione ma evaporazione ed ebollizione sono due diverse maniere di avere lo stesso passaggio di stato quindi tenete presente molto bene quello che vi sto dicendo adesso liquifazione e condensazione sono due sinonimi sono la stessa cosa evaporazione ed ebollizione sono due diverse maniere di realizzare lo stesso passaggio di stato quando diciamo così parleremo dello stato liquido ci sarà una lezione di un'oretta che servirà proprio a farvi capire qual è la differenza tra evaporazione e ebollizione bene viene anche chiesto un esame poi abbiamo anche il passaggio di stato direttamente da solido aereo che si chiama sublimazione benissimo sublimazione ma c'è anche il passaggio di stato da aeriforme a solido che si chiama benissimo dunque la sublimazione e il brinamento quando si verifica si verifica praticamente quando un solido per esempio la sublimazione passa direttamente allo stato aeriforme ad esempio che vi posso dire la naftalina sublima non fonde a pressione ambiente la naftalina passa direttamente allo stato aeriforme che ne so il ghiaccio secco cioè sarebbe l'acquiviridria carbonica solida quando si ha la pressione atmosferica passa direttamente allo stato diciamo così di aeriforme oppure che posso dire il brinamento quando che ne so il congelatore che si dovrebbe trovare a meno 16 meno 18 lo lasciamo aperto per un pochettino entra l'aria ubida praticamente che cosa succede dopo apriamo un'altra volta il congelatore lo troviamo con tutta diciamo così una sorta di brina attaccata alle pareti che cosa è quella brina che poi dopo a poco alla volta diventa ghiacci è l'umidità che era presente nell'aria che trovandosi improvvisamente in un ambiente a meno 16 passa direttamente dallo stato aeriforme allo stato solido bene quindi diciamo così che c'è questa prima possibilità di andare ad avere queste trasformazioni della materia diciamo che queste trasformazioni questi passaggi di stato sono dette trasformazioni fisiche non sono delle trasformazioni molto intime non sono delle trasformazioni molto profonde erogate dunque cercherò con un esempio di farvi capire questo concetto prendiamola l'acqua adesso non credo diciamo così di anticipare grosse conoscenze che dovrei presentarvi nella restante parte del corso dicendomi che la molecola d'acqua che la parte più piccola dell'acqua è a formula H2O cioè che c'è una molecola di ossigeno che nell'acqua c'è un atomo di ossigeno legato a due atomi di biologia bene allora noi che cosa abbiamo se l'acqua è liquida abbiamo che in una molecola d'acqua c'è un atomo di ossigeno e due atomi di idrogeno va bene adesso se quest'acqua viene portata al di sotto di 0 gradi centigradi l'acqua diventa ghiaccio ma nel ghiaccio le molecole d'acqua sono sempre costituite da un atomo di ossigeno e due atomi di biologia se io questa stessa acqua la porto a una temperatura superiore a 100 gradi centigradi tutta l'acqua evapora io ho del vapore d'acqua ma anche nel vapore d'acqua le molecole d'acqua sono sempre costituite da un atomo di ossigeno e due atomi di biologia sempre legati alla stessa maniera alias cosa voglio dire sono cambiate le interazioni che ci stanno tra le varie molecole d'acqua ma la molecola d'acqua in sé per sé non è cambiata o è acqua liquida o è ghiaccio o è vapore acro sempre H2O è sempre la stessa cosa chiaro non è cambiato niente bene quindi sono delle trasformazioni potremmo dire superficiali delle trasformazioni non profonde le trasformazioni fisiche riguarda solo lo stato di aggregazione della materia invece la materia può avere anche delle trasformazioni più profonde che sono dette reazioni chimiche facciamo qualche esempio perché sono praticamente la cosa diciamo così più semplice diciamo i concetti molto spesso sono vaghi gli esempi sono sempre molto chiari un esempio di reazione chimica è ad esempio quella lì se noi prendiamo un accendino giriamo la rotella dell'accendino premiamo il tastino dell'accendino si accende una fiata quella è una reazione chimica che sta succedendo l'idrocarburo che è contenuto all'interno dell'accendino che si chiama butano che nelle condizioni diciamo così in cui si trova all'interno dell'accendino è liquido vaporizza rapidamente la reazione di combustione è innescata dalla scintilla che viene fatta scoccare dalla rotella che gira o diciamo così da un cristallo piezoelettrico che orientandosi improvvisamente fa scoccare una scintilla e viene innescata la reazione di combustione che cosa succede in questa reazione di combustione il butano è composto da carbonio e idrogeno questo butano reagisce con l'ossigeno dell'aria e il carbonio del butano si trasforma in elettrica carbonica l'idrogeno del butano si trasforma in acqua quindi praticamente prima e dopo la reazione noi abbiamo due sistemi completamente diversi prima della reazione noi abbiamo butano e ossigeno dopo della reazione abbiamo anidride carbonica e acqua chiaro? quindi in poche parole noi abbiamo che si sono rotti i legami che tenevano uniti gli atri nelle sostanze chimiche che erano presenti inizialmente e si sono formati degli altri legami chimici a formare delle sostanze chimiche che sono completamente diverse bene facciamo qualche altro esempio di reazione chimica prendiamo ad esempio che vi costo di una fetta di carne se io una fetta di carne la vado a mettere in padella e accendo una fiamma sotto io cuocio la carne e beh diciamo così di cuocere una fetta di carne si verificano tutta una serie di reazioni chimiche cioè non ve le sto nemmeno a spiegare perché sono estremamente complicate le proteine che non sono fatta la carne si cominciano a spezzare fanno una serie di cose comunque si verifica tutta una reazione una serie di reazioni chimiche e in effetti se andiamo a vedere il sistema come era prima della reazione chimica fetta di carne è evidente qualche cosa che delle profonde trasformazioni non sono avvenute facciamo ancora un altro esempio prendiamo per esempio che vi posso dire una lamiera d'acciaio una lamiera d'acciaio diciamo così non protetta dalla vernice se torniamo qualche giorno dopo la lamiera d'acciaio che inizialmente era bella lucente è diventata opaca e rossa in superficie cosa è successo? si è ossidata si è arrugginita semplicemente l'acciaio il ferro dell'acciaio ha cominciato a reagire con l'ossigeno dell'aria e si è trasformato in ossido di ferro poi ovviamente è entrata a partecipare anche diciamo così l'umidità dell'aria quindi quest'ossido possibilmente è diventato anche un idrossido e quindi si è verificata questa reazione diciamo che se noi andiamo a guardare il sistema prima e dopo della reazione ci accorgiamo che è successo qualche cosa di grosso cioè inizialmente la lastra era bella lucente rifletteva la luce mi potevo specchiare dentro dopo una settimana è tutta quanta rossa è diventata opaca e non mi posso assolutamente più specchiare quindi praticamente abbiamo che è avvenuta una reazione adesso la chimica diciamo così si occupa ecco della capacità di trasformazione della materia e si occupa praticamente essenzialmente di queste trasformazioni chimiche più profonde cioè una trasformazione chimica è una reazione cosa succede in una reazione che le particelle di cui sono fatte i reagenti cioè le sostanze che cominciano la reazione si rompono questi regali se ne formano altri e danno così origine alla formazione di sostanze chimiche diverse da quelle che si avevano all'inizio queste sostanze chimiche diverse che si formano alla fine della reazione come si chiamano prodotti di prezzi adesso fino adesso ci siamo occupati di come si dice di fatti qualitativi cioè abbiamo detto la fetta di carne prima era cruta e mi faceva schifo mangiarla dopo è cotta è di buona e me la mangio la miera d'acciaio prima era lucente e mi potevo specchiare poi è diventata opaca e non posso più specchiare adesso occupiamoci di qualche aspetto invece quantitativo delle reazioni e per vedere questo aspetto quantitativo delle reazioni chimiche andiamo un pochettino a studiare un sistema proprio semplicissimo e adesso vi mostro la lavagna allora guardate qui vogliamo di avere una vasca va bene allora in questa vasca diciamo così c'è un setto c'è una separazione che lo divide in due scomparti va bene dunque in questo scomparto qui noi ci mettiamo praticamente una soluzione acquosa di un sale che è il cloruro di sodio quindi qua ci sta una soluzione acquosa di M-A-C-E da quest'altro lato c'è una soluzione acquosa di un altro sale nitrato di argento che si sciolgono bene questi sono dei sali che si sciolgono bene cioè io posso di cloruro di sodio io ne posso sciogliere anche 200-250 grammi per litro o la solubilità dell'intrato di argento diciamo così non me la ricordo però se ne possono sciogliere sicuramente diversi grammi poi la concentrazione non importa ci sta qua del cloruro di sodio e qua del cloruro di argento adesso io cosa faccio prendo questa separazione vedete la spilo via di modo che si miscolano queste due soluzioni inizialmente queste sono due soluzioni sono due soluzioni limpide cioè che significa significa che il sistema prima che io sfilo il setto e le separa è un sistema omogeneo cioè è un sistema costituito da una sola fase cioè in qualche parola se io vado a vedere un elemento di volume di questa soluzione ci troverò in questo elemento di volume tante molecole d'acqua tante particelle di sodio tante particelle di cloro va bene e altrettanto succede da questo lato qui praticamente la soluzione è perfettamente trasparente perché il sistema è monofasico io come sfilo questo diciamo così questo setto che cosa succede improvvisamente tutte queste due soluzioni che erano perfettamente limpide diventano bianche improvvisamente cioè da che erano lì utile diventa tutto bianco poi dico vabbè vediamo che cosa succede lasciamo diciamo così passare un po' di tempo e vediamo cosa succede vediamo praticamente che poco alla volta la superficie torna limpido e il bianco si deposita sempre più in basso cioè inizialmente lo strato limpido è tanto alto poi lo strato limpido si porta ancora più in basso poi ancora più in basso e poi diciamo così la parte bianca rimane solamente diciamo così in basso questo seno può agitare va bene che cosa è successo è successo praticamente che come gli unicloruro come queste particelle di loro hanno visto le particelle di argento hanno interagito fra di loro e hanno formato un stato di cloruro di argento che non si scioglie in acqua e che quindi è precipitato cioè questa è una reazione di precipitazione bene adesso diciamo non è la mia intenzione mostrarvi le reazioni di precipitazione adesso ma ho utilizzato questo sistema qui per poter introdurre che cosa? supponiamo di fare l'esperimento che abbiamo fatto sul piatto di una bilancia bene allora se io praticamente metto questo sistema la vasca con il setto ecco che siamo con la soluzione acquosa di cloruro di isolo la soluzione acquosa di nitrato di argento sopra il piatto di una bilancia quello mi segnerà un certo peso un certo peso che ovviamente è proporzionale alla massa di quello che ci sta dentro chiaro la bilancia vi dà i pesi non vi dà le masse chiaro allora io quando sfilo il setto e permetto diciamo così la mescolazione delle due soluzioni il mescolamento delle due soluzioni o che si verifica una reazione chimica e diciamo così la reazione chimica è evidente perché mentre prima il sistema era diciamo perfettamente è limpido perfettamente trasparente quando avviene la reazione chimica tutto il sistema diventa bianco cioè la reazione la vedo proprio con gli occhi è chiaro vi potrei fare gli esempi di tantissime altre reazioni il cui evolvere lo potete vedere da un cambiamento di colore cioè una reazione acido base che ne so un sistema che è acido ci mettete praticamente l'indicatore con l'indicatore quello è arancione ci mettete una base e quello diventa giallo cioè voi dal cambiamento di colore capite che è avvenuta una reazione chimica quindi come ve l'ho fatto questo esperimento per questa reazione qui ve ne potrei portare altre cento altre mille va bene ma il punto su cui vorrei richiamare la vostra attenzione è il fatto che a bilancio nel corso di questa reazione chimica non registra nessuna reazione di peso chiaro cioè in qualche parola nel corso della reazione chimica praticamente voi avete che il peso quindi la massa del sistema resta assolutamente la stessa bene adesso qualcuno di voi mi potrà dire Ardamotti faccio subito diciamo così un esempio di una reazione chimica dove la massa del sistema varia continuamente cioè se io prendo per esempio una candela accendo questa candela e praticamente abbiamo che quando io accendo la candela ho una reazione chimica perché praticamente gli idrocarburi di cui è fatta la candela lequefano impregnano lo stoppino salgono per capillarità nello stoppino prendono fuoco e bruciano e gli idrocarburi cioè composti di carbonio e idrogeno si trasformano in anidride carbonica e acqua se io metto una candela sul piatto della bilancia e la brucio io vedo praticamente la bilancia che poco alla volta diminuisce sempre di peso quindi caro Michele caro Vanzini quello che tu ci mi stai raccontando non è proprio assolutamente calzante invece no perché praticamente il carbonio e l'idrogeno che sono presenti negli idrocarburi di cui è fatta la paraffina della chimica quando reagiscono si trasformano in anidride carbonica e acqua che si allontanano dal sistema reagente allontanandosi dal sistema reagente io non ho più la possibilità di considerarne il loro peso quindi la diminuzione di peso che io registro la registro perché non sono più capace di tenere ingabbiati nel sistema reagente i prodotti di razione se ad esempio l'esperimento della candela che brucia io lo faccio in una scatola chiusa che non permette all'anidride carbonica e all'acqua di allontanarsi io ho che fino a quando prima cosa la reazione a un certo punto finisce perché finisce l'ossigeno che sta dentro tra la scatola la scatola e la reazione si fuori ma fino a quando ha potuto reagire il sistema io non noto nessuna diminuzione di peso perché? perché è vero che la candela si è fatta più piccola però il carbonio e l'idrogeno che sono stati persi dalla candela io me li ritrovo nella fase aereiforme sotto forma di anidride carbonica e niente quindi se voi avete le dovute accortezze in qualunque reazione chimica voi non registrate nessuna variazione di peso del sistema quindi nessuna anche variazione di massa del sistema pertanto praticamente il Lavoisier trasse da queste sue osservazioni la sua legge della conservazione delle masse detta anche legge di Lavoisier che recita come segue in un sistema chimico isolato la massa delle sostanze che partecipano ad una reazione chimica tra parentesi reagenti è uguale alla massa delle sostanze che si sviluppano dalla reazione chimica tra parentesi prodotti prodotti adesso ve l'ha detto più lentamente questa è la legge di Lavoisier o legge della conservazione delle masse in un sistema chimico isolato la massa delle sostanze che partecipano ad una reazione chimica è uguale alla massa delle sostanze che si sviluppano dalla reazione chimica quindi la massa dei reagenti è uguale alla massa dei prodotti di reazione bene diciamo che la legge la scoperta di Lavoisier fu un colpo definitivo alle speranze degli alchimisti gli alchimisti diciamo così erano i progenitori dei chimici e avevano come scopo della loro ricerca la pietra filosofale cioè quella pietra che trasformava qualunque materiale in oro diciamo così con la legge della conservazione delle masse di Lavoisier che sanciva inderogabilmente la conservazione delle masse che partecipano ad una reazione chimica la possibilità di andare a trasformare come l'evento in un altro era assolutamente diciamo così impossibile bene poi andiamo un pochettino a approfondire diciamo così questo 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 facciamo un'altra legge fondamentale della chimica e poi dopo qualche minuto di intervallo e poi dopo finiamo la lezione dunque stavo dicendo praticamente prendiamo ad esempio un composto qualunque il clorbulo di sodio il clorbulo di sodio è costituito praticamente da sodio e da cloro adesso il clorbulo di sodio può avere tante diciamo così origini diverse ad esempio la maniera più semplice di andarsi a recuperare il clorbulo di sodio è quella lì di far evaporare l'acqua di mare e i sali che otteniamo purificabili e il costituente principale dei soldi che si separano dall'evaporazione dell'acqua di mare è il clorbulo di sodio diciamo che nell'acqua di mare ci sta qualche cosa come in ogni litro di acqua di mare nei nostri mari che stanno qui ci saranno una ventina di grammi di sale o in circa più o meno questa quantità di sale aumenta se andiamo nel mar rosso e diminuisce se andiamo nel mar baltico o nel mar artico nel mar glaciale artico diciamo che il clorbulo di sodio esistono anche le miniere di salgemma cioè le miniere di sale di clorbulo di sodio quindi è un clorbulo di sodio di una diversa origine se proprio diciamo vogliamo siamo proprio dei pazzi e vogliamo diciamo così divertirci possiamo il clorbulo di sodio produrlo sinteticamente chiaramente non ce n'è nessun bisogno perché il clorbulo di sodio in natura se ne trova quando vogliamo ma se vogliamo produrre il clorbulo di sodio sinteticamente basta far fluire un poco di cloro che è un gas in condizioni normali su una superficie di sodio che è un metallo in condizioni normali e istantaneamente sodio metallico e clorogassoso si trasformeranno in clorbulo di sodio quindi abbiamo tre diversi campioni di clorbulo di sodio uno prodotto dall'acqua di mare uno prodotto da una miniera di salgemma uno prodotto sinteticamente ebbè se noi andiamo a effettuare l'analisi chimica di questi tre campioni di clorbulo di sodio noi vedremo sempre che in tutti i campioni di clorbulo di sodio ogni 23 grammi di sodio ci saranno 35,5 grammi di cloro se vogliamo andarci a riferire che vi posso dire a un grammo di sodio abbiamo che per ogni grammo di sodio ci sono 1,54 grammi di cloro o se ci vogliamo andare a riferire a 100 grammi di clorbulo di sodio potremo sempre dire che il 39,3% sarà sodio e il resto il 60,7% sarà sodio se noi diciamo così facciamo questo esperimento non solo per il cloro di sodio ma per qualunque altro composto che ne so il carbonato di calcio il carbonato di calcio è il principale costituente del calcare il calcare è una roccia molto diffusa in natura per esempio la collina dove sta l'abbazia di Nunte Cassino è un enorme blocco di calcare che è costituito principalmente da carbonato di calcio il carbonato di calcio esiste in natura il carbonato di calcio si può produrre sinteticamente il carbonato di calcio volendo si ottiene anche dall'evaporazione dell'acqua di mare qualunque tipo di campione di carbonato di calcio che voi andate a prendere avrete che sarà costituito dal 40% di calcio dal 48% di ossigeno e dal 12% di carbone ripeto questi ragionamenti se voi invece di farli sul cloronisodio sul carbonato di calcio li fate su altri mille diecimila centomila prodotti chimici diversi avrete sempre gli stessi risultati cioè l'analisi chimica vi darà sempre gli stessi risultati allora c'è stato uno studioso che ha messo insieme diciamo così queste osservazioni dicendo praticamente che quando due o più elementi si legano fra di loro per formare un certo composto questi elementi sono fra di loro in proporzioni definite e costanti cioè che nel cloronisodio ci saranno sempre il 60,7% di cloronisodio e il 39,3% di cloronisodio qualunque sia la sua questa è la legge delle proporzioni definite detta anche legge di Proust va bene diciamo che queste leggi diciamo che abbiamo visto fino adesso di Lavoisier e di Proust derivano dall'osservazione praticamente di una serie di fatti che si verificano davanti non credo che ci dovrebbero essere difficili se ci sono problemi ditemi se no io darei qualche minuto di riposo e poi dopo ricominciamo ok